È una specie di circo. È il caos. Che carino. Grazie. Per i bambini, cerco di trasformarlo in un'avventura. Quando conobbi Mark facevo la modella, un fotografo mi disse «Ma lo sai che è un ottimo ciclista?» Io non avevo mai visto una corsa in vita mia. Il ciclismo è uno sport che confonde, ma mi resi conto di quanto contasse per Mark. Così, se volevo capire Mark, dovevo capire il ciclismo. Devi metterti il paraocchi. Devi evitare le distrazioni e concentrarti su ciò che ti serve.